Celso Cioni, parliamo di questa iniziativa di Confcommercio Abruzzesi Tenaci, vediamo alle nostre spalle questo acronimo che però vuole significare qualcosa di importante a livello economico e commerciale delle imprese e non solo. Il guerriero di Capestrano che è il simbolo della nostra forza e della nostra tenacia sta a significare un progetto di diffusione sul territorio regionale in tutte le strutture delle quattro Confcommercio provinciali su tematiche che stanno molto a cuore all'economia abruzzese, vale a dire il turismo, l'ambiente, la formazione, tutto ciò che può dare la capacità alle nostre imprese di restare competitive e di affrontare le difficoltà dei cambiamenti epocali che stiamo affrontando e una serie di iniziative che oggi presenteremo alla stampa e soprattutto all'Abruzzo intero, perché il contributo che il nostro sistema di terziario di mercato equivale ad oltre il 60% del prodotto interno lordo abruzzese sia in termini economici che di occupazione. L'economia del terziario è protagonista e vorremmo che anche la regione possa orientare le proprie scelte di sostegno all'economia partendo da questo settore che ha ancora una grandissima potenzialità. Immaginiamo il turismo, immaginiamo un nuovo modello di sviluppo che senza ombrina di dubbio è il turismo ambientale, il turismo che fa riferimento alle nostre bellezze straordinarie che sono un potenziale straordinario per il nostro futuro e soprattutto dei giovani.